Senti, abbiamo voglia di divertirci e giocare a carte stasera. Sì, giochiamo a carte? E quali sono le carte più importanti? Ah, sono fantastici loro. Arrivano da Palermo e sono i respinti! Io sono il re di denari e sono stato fatto da Modiano. Anch'io sono stato fatto da Modiano. Beati voi, io sono stato fatto da Negro. Re di coppe, quante volte... Ma perché te lo sei portato? Ma fottetine, quello beve. Ma salute! Ah, non si beve, altrimenti ti ubriachi e ti dimentichi che sei una carta siciliana. 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 Carta siciliana. Ogni volta... Allora, il posto è bellissimo, ci stiamo divertendo un casino, saluti e baci. Sono pronto. Ma che stai facendo? La cartolina. Carta siciliana! Siciliana! Mica, ma quante volte glielo devo dire, incredibile. Ah! Salute! Non si beve! Non si beve. Devi stare, buono, no? Oh, denari, guarda chi c'è, guarda chi c'è. Chi c'è? C'è la donna a terra. E quindi? Aspetti due, faccio scopa. Sempre la solita fissazione, oh. E sì? Sei proprio fissato con le donne. Anzi, a proposito, fammi passare dalla farmacia. E che c'entra la farmacia? Mi manca il settebello. Niente, allora, fai una cosa. Una volta che poi prendi il settebello, te la porti a casa, vi mettete davanti la tv e vi guardate là, belli seduti sul divano. Allora, professore, ho conosciuto a Toglio, a Berlino, a Stoccolma, tutto mappabondo. Ma che stai facendo? A casa di carta. Carta siciliana! Siciliana! Ma come devo fare con questi cre... Ah! Salute! Non si beve! Non si beve! Non si beve! Mia, ma veramente, ogni volta, oh, porca miseria! Eh, perciò, ti dicevo, questo è proprio scemo! No, sembra scemo, ma in realtà è più intelligente di quella carta che tutti i giorni nuota dalla Francia all'Inghilterra. Dall'Inghilterra alla Francia! E che carta è? L'asso nella manica. Effettivamente hai ragione, ma perché non si prende l'aereo? Blin Blon, il gate numero 24, preparateci i kid. Blin Blon, ma che fai? La carta d'imbarco. Carta siciliana! Siciliana! Eh, proprio con questo, che devo fare con questo? Allora, fa una cosa, gli dai un compito, così si concentra e non ci disturba più. Hai ragione, ci penso io. Allora, dato che siamo carte giganti e se ci vedono ci strappano, occhio da quella parte se viene qualcuno, se vedi arrivare qualcuno, grida, occhio, così noi ci blocchiamo e non ci vedono. A posto. Va bene? A posto, penso io. A posto, ho detto una fesseria. Occhio! A posto, funziona, è una prova. Va ti metto a fare le prove. Bravissimi se ne stavano, occhio! Funzionate l'uomo. Davies, mate, basta io con voi due, non ci esco più, non ci gioco più. Stasera lo sai che faccio? Mi ritorno a casa, mi collego al sito delle scommesse e mi faccio un poker online, oppure mi collego al sito delle scommesse e mi faccio un bel blackjack. Niente, allora mi collego pure io e mi faccio un solitario. Ma il solitario non c'è nel sito delle scommesse. Ma sugli oporn sì, però. Signorina, signorina, stasera usciavo, mi porto a cena fuori e mi faccio un basso di rose. Ma che fai? La sto carteggiando. Si dice corteggiando, ma io veramente, basta, io non ce la faccio più con voi, adesso io chiamo il mago e vi faccio sparire, eh? E non è detto che vi finisce bene come è finita bene a me l'ultima volta, mi ha fatto sparire dal mazzo, sono riapparso sulla farfallina di Belen. Beato tu, io ero sul pitone di Rocco Siffredi. Torniamo nel mazzo, va! Torniamo nel mazzo, va!